Inquinare non si può, ma inquinare meno sicuramente sì. Lavorare per un mondo pulito. Questo l'impegno di TRS Ecologia. Un partner ideale per le aziende che puntano su una gestione attenta, professionale e certificata dei propri rifiuti, in sicurezza e nel totale rispetto delle normative. Il materiale, il rifiuto che noi raccogliamo, che va all'utilizzo, che va allo smaltimento, deve essere quello definito dalla normativa di legge. Cerchiamo di dare al nostro committente sempre la sicurezza di dormire sonni tranquilli. L'impianto di Caorso in provincia di Piacenza dispone di attrezzature e di personale altamente qualificato ed è dotato anche di un moderno laboratorio chimico per il controllo dei rifiuti. L'obiettivo? Essere un presidio per il territorio 24 su 24, 365 giorni all'anno, assicurando così un pronto intervento anche in caso di emergenze ambientali. È già successo, è capitato tante volte di essere chiamati di notte o durante i giorni festivi, addirittura anche il giorno di Natale, per sopperire e far fronte a delle emergenze, di allagamenti, fuori usciti e di introcarburi, con eventuali problemi ambientali, se non si fosse intervenuto nel più breve tempo possibile. Molteplici le attività delle quali TRS si occupa quotidianamente, operando sull'intero territorio nazionale, trattando e avviando al recupero e allo smaltimento, anche all'estero, rifiuti pericolosi, non pericolosi e assimilabili. Fornendo consulenze altamente specializzate, garantendo interventi di bonifica con elevati standard qualitativi, in una logica di Global Service, un leader del settore. Basti ricordare che a TRS si affidano 3.500 clienti all'anno, nel solo ambito della micro raccolta. TRS Ecologia viene definita come azienda di pubblico utilità, perché noi ci occupiamo di tante tipologie di servizi, dal privato al piccolo azienda, alla grande industria, offrendo un Global Service completo a ogni problematica ambientale. Sicuramente è un'azienda che aiuta il territorio a essere meno inquinato, più pulito e anche più informato. Oltre a fare i servizi, facciamo anche molta consulenza e facciamo anche tanta informazione. Abbiamo investito molto sulla formazione, sulla crescita nostra personale e soprattutto abbiamo cercato di trasmettere lo spirito di squadra. L'approccio etico al business è un asse portante delle politiche aziendali. Se esiste un'azienda che lavora rispettando le normative, le regole e quant'altro, e poi abbiamo una concorrenza sleale che è libera di andare sul mercato, trasportare, smaltire a prezzi sicuramente molto più bassi rispetto alle aziende che si comportano come non comportassi, avremo sempre poi discariche, contaminazioni, falde inquinate e quant'altro. Verificate che le aziende che gli offrono il servizio siano iscritte, autorizzate e certificate. Intensa è anche l'attività di sensibilizzazione sulle tematiche ecologiche attraverso la realizzazione di progetti culturali, come quello denominato Terra Bambina, rivolti in particolar modo alle nuove generazioni. Qualità, innovazione, ricerca, passione, gioco di squadra. Sono questi gli ingredienti del successo di TRS, che con assoluta convinzione ha aderito al consorzio Copat. Confidiamo molto su questo brand per presentarci e far conoscere insieme TRS Ecologia al punto Copat. Grazie a tutti. Grazie a tutti.